Ciao, se hai iniziato a lavorare da poco oppure lavori già da un po' di tempo per l'azienda di network marketing Forever Living e non stai ottenendo i risultati che ti eri prefissato, beh sappi che stai guardando proprio il video giusto, se è capitato proprio nel video giusto perché io ti posso aiutare. Mi presento molto velocemente, io sono Peter Valcev del blog NetworkMarketingManager.it sono entrato nel mondo del multilevel marketing verso la fine del 2010 e per 4 anni il network è stata la mia unica fonte di reddito. In questo tempo in cui lavoravo attivamente, in cui facevo attivamente network marketing, sono riuscito a creare team con più di 2000 persone sparse in tre continenti. E come ti dicevo sono entrato in questo mondo nel 2010 e a fine 2014 ho deciso di dedicarmi a quella che è la mia grande passione. che è il marketing, in particolare il marketing digitale. Quindi posso dire che grazie al network marketing in 4 anni, in cui tra l'altro facevo anche l'università, il network marketing mi ha permesso di realizzare quello che era appunto il mio grande sogno. Grazie a tutte le formazioni che ho iniziato a fare nel 2014, ai coaching, alle formazioni online, beh, posso dire che dal 2014 fino ad oggi ho aiutato centinaia di networker in Italia e in Bulgaria a creare dei processi vincenti per generare appunto più clienti e collaboratori per le loro attività di network marketing. E come ti dicevo voglio aiutare appunto anche te, anche te che stai collaborando con l'azienda Forever Living, però stai avendo non poche difficoltà a trovare contatti interessati al tuo business. Magari tu sei sempre presente a tutti i seminari aziendali, sei sempre presente agli eventi, ma comunque vedi che la tua struttura fatica a crescere, non cresce. Magari ci hai provato seguendo quello che ti ha detto il tuo sponsor, ma comunque continui a ricevere una marea di no e una marea di obiezioni che tu praticamente non riesci a gestire. E nonostante tu venda comunque ottimi prodotti, quindi oggettivamente vendi prodotti di alta qualità, di altissima qualità, comunque non riesci a trovare nemmeno clienti, nemmeno clienti, quindi non solo collaboratori. E i pochi clienti che trovi comunque dopo non riesci a fidelizzarli. Magari comprano un mese, due mesi, ma dopo non comprano più e tu devi sempre stare lì a rompere. Capisco che adesso magari sei stanco, sei stanco delle solite frasi che ti dicono appunto i tuoi potenziali clienti collaboratori, tipo ci devo pensare, oppure ti pago il prossimo mese, oppure la solita obiezione ma costa troppo, oppure non ho adesso il tempo per iniziare questo business. Capisco che ora ti posso sentire affranto e demoralizzato, ok? E tu possa iniziare anche a pensare che magari sei inadatto a questa attività. Però ascoltami attentamente. Io ho preparato per te un videocorso gratuito, formato da tre video, in cui ti svelo perché in realtà tu non stai ottenendo il successo che ti meriti. Attenzione, dico ti meriti non a caso, ma perché già per il solo fatto che tu sei entrato nel multi-level marketing, vuol dire che tu vuoi cambiare vita, cioè vuoi uscire dalla zona di comfort. E già il fatto che anche stai guardando questo video e che ci sei preso la briga di andare a cercare su YouTube, ok, come lavorare come un professionista in questa industria, dimostra che tu ti meriti di raggiungere il tuo successo. E ci stavo dicendo che in questo videocorso gratuito che ho preparato per te, io ti svelo perché sei condannato al fallimento se, diciamo, continui ad ascoltare solamente i consigli del tuo sponsor, ok? Anche se, attenzione, anche se lui o lei è chiaramente in buona fede. Ma ti do anche chiaramente la soluzione. In questo videocorso che ho preparato per te, ti faccio vedere quali sono i tre pilastri fondamentali sui quali dovresti basare il tuo business di network marketing, se vuoi appunto iniziare a vedere i primi risultati e scalare finalmente il piano a compensi, ok? Ti faccio vedere proprio degli esempi concreti. Ti mostro come un mio cliente, che era un perfetto neofita, è riuscito a descrivere nove persone durante i suoi primi due giorni, seguendo quattro semplici passi che appunto ti mostro in questo videocorso gratuito. L'ho fatto, in parole povere, senza avere particolari competenze, ma seguendo una strategia che io chiamo strategia di marketing mix. Ti faccio anche vedere degli esempi concreti su come lavorare su Facebook applicando il cosiddetto marketing di attrazione. Quindi, se vuoi cambiare finalmente il corso del tuo business, del tuo business in Forever Living, se vuoi essere finalmente fiero di quello che stai facendo e camminare a testa alta, beh, sotto questo video che stai vedendo, questo bellissimo video da 5 minuti, sotto trovi appunto nella descrizione del video, trovi il link in cui puoi inserire poi successivamente la tua email e io ti mando immediatamente il videocorso gratuito. Se sei pronto ad ambire l'eccellenza, se vuoi far crescere quell'abilità che ti permetteranno finalmente di ottenere i guadagni e le qualifiche che tu desideri, allora io ti aspetto. Buona formazione, ci vediamo dall'altra parte, tra poco. Grazie. Grazie.